Sono le ore 18 quando le campagne della Chiesa di San Giuseppe ad Oliveri sono una festa per la Messa Vespertina. Una Santa Messa speciale perché a celebrarla è il Vescovo della Diocesi di Patti, Guglielmo Giombanco, venuto in occasione dell'inaugurazione del Salone Parrocchiale, intitolato a Padre Luigi Lopressi, scompasso nel gennaio del 2020. Una cerimonia toccante tanto per l'Omelia incentrata sulla lettura del Vangelo, che in questa giornata celebra gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, quanto per la figura pastolare ricoperta da Padre Luigi nei suoi anni di ministero sacerdotale nella comunità di Oliveri, che, come gli angeli, è stata sempre dinanzi a Dio. Una chiesa gremita di fedeli e dei familiari dello stesso Don Luigi venuti dal Caralifusi. Presenti anche le autorità istituzionali locali, i presbiteri, i diaconi e le maestranze che hanno lavorato al progetto di riqualificazione del Salone. Prima del taglio del naso, il sindaco Francesco Ierrera ha voluto ricordare la memoria di quel pacciuzzo, come veniva chiamato dagli oliveresi, perché la sua vita sacerdotale è stata consagrata a questa comunità al pari di un padre. Quel Salone ha rappresentato per molte generazioni il luogo di aggregazione per antonomasia. Qui i giovani di ieri hanno potuto conoscersi fare teatro, radio, cinema, partite di ping-pong e prove di canti natalizi. Oggi, con gli angusti locali, grazie ad un progetto redatto dall'ingegnere Enunziato Chiofalo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oliveri, che ha consentito il finanziamento all'assessorato regionale alla famiglia di 87.000 euro, sotto la direzione dei lavori dell'architetto Giovanni Rao, hanno ridato luce ad un luogo tanto caro che contribuirà, come ha detto padre Salvatore Lollo, alla crescita culturale e religiosa delle nuove generazioni.